Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Prima di iniziare questo video vi chiediamo cortesemente per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera e di attivare le notifiche perché ogni giorno vi aspettano notizie, news e descrizioni sul nostro magico mondo rosso nero. È notizia di qualche settimana fa che il Fondo World Lab Technologies attraverso il suo CEO e fondatore Aleksandr Yukov si era dichiarato fortemente interessato all'acquisto del Milan, ma soprattutto aveva fatto in qualche modo scalpore la manifestazione di interesse perché soprattutto in trattative di così tanta importanza, di grossa portata, è difficile assistere all'emissione di un comunicato ufficiale dall'acquirente, dall'interessato senza quantomeno aver controllato i conti della società che intende rilevare, senza aver effettuato quella che è cosiddetta, così chiamata due diligence. E quindi c'è da considerare che Paul Singer ha saputo ovviamente chiaramente di questo interessamento, ma c'è anche da considerare come Paul Singer, quindi la proprietà, il fondo Egliot, abbia un obiettivo in testa, un obiettivo chiaro che è la costruzione del nuovo stadio di proprietà, che è proprietà congiunta insieme all'Inter, che renderebbe il Milan ancora più appetibile sul mercato, quindi che permetterebbe al Milan di incrementare notevolmente gli introiti commerciali e quindi di aumentare anche il prezzo di vendita finale che il fondo Egliot, quando il fondo Egliot venderà, cederà, passerà la mano a un nuovo investitore. E quindi il nuovo stadio permetterebbe di rendere il Milan più appetibile sul mercato e quindi di aumentare anche il suo valore patrimoniale. Quindi l'attuale proprietà sarebbe disposta a vendere, Paul Singer, Gordon Singer, quali sono le notizie? Che l'attuale proprietà sarebbe disposta a vendere solo dopo il completamento dei lavori relativi al nuovo impianto, o quantomeno dopo aver ottenuto la difficile autorizzazione per costruire il nuovo stadio. Difficile autorizzazione perché si sa come la burocrazia, si sa quanto impatta la burocrazia sulle nuove costruzioni in Italia. E quindi il Milan, soprattutto, un Milan che diventa sempre più appetibile anche perché i risultati sportivi stanno in qualche modo facendo tornare grande entusiasmo ai tifosi, grande entusiasmo alla piazza Rosso Nera e soprattutto sta tirando grande attenzione anche ai nuovi sponsor che se il Milan soprattutto dovesse qualificare e andare avanti in Europa League battendo il Manchester United, quindi il Milan in qualche modo tornerebbe ancora di più con forza, con decisione nell'elite del calcio mondiale. E quindi il Milan avendo raggiunto anche un punto di equilibrio dove tutte le componenti societarie stanno rimando alla selezione e di questa compattezza ne sta dimostrando anche, beneficiando anche la squadra, allora il Fondiut se lo gode, se lo gode particolarmente il suo Milan e quindi escludiamo a breve giro quindi possibili cessioni sia al Fondo World Lab Technologies sia alle possibili inesistenti voci che vedevano negli scorsi mesi Bernard Arnault interessato al Milan. Quindi al momento, quindi al 16 marzo 2021 non vogliamo in qualche modo continuare a parlare di questo argomento ma il Milan e il Fondiut ha una missione chiara, tornare a vincere, costruire un nuovo stadio di proprietà e in qualche modo aumentare i valori commerciali, aumentare il fatturato per portare il Milan sempre più in alto e poi una volta che il Milan raggiungerà questi due o tre macro obiettivi allora il Fondiut penserà di cedere il club con grande soddisfazione per il lavoro eseguito e soprattutto anche avendo un ritorno economico davvero importante. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.